Campobasso attende novità buone dalla prossima riunione fissata a Selvapiana nel pomeriggio di venerdì, quello che abbiamo voluto ribattezzare il tavolo tecnico numero 2, lo stesso organo ad indirlo, cioè noi siamo il Campobasso, gli stessi anche gli invitati a sedersi, e che stavolta dovrebbero presentarsi con delle possibili soluzioni. In dubbio la presenza della società rosso-blu già mancata nel summit precedente e questo in tutta franchezza lo abbiamo avvertito come un reale paradosso. Da qualche parte si dice che Aliberti possa presenziare venerdì pomeriggio a Selvapiana. Vedremo, sta di fatto, che lo scoglio da superare è un debito complessivo di mezzo milione di euro tra IVA e gestione, dunque pagamenti a calciatori, fornitori, eccetera. Un ammanco incredibile se si pensa che stiamo parlando di una parentesi fatta. Di un anno di eccellenza e tre di quarta serie sono rimaste in sostanza soltanto le macerie. Da parte sua la società per il tramite dell'ex presidente Perrucci prosegue a sostenere che l'iscrizione alla prossima Serie D sarà regolarmente effettuata. Perrucci non parla attraverso canali ufficiali, cioè interviste o comunicati stampa, ma lo fa confidandosi con qualche amico. Oppure lo ha fatto capire indirettamente quando si è preoccupato di avvisare i vertici del Macchia di Sernia di stare tranquilli rassicurandoli così sulla presenza nei ranghi di quarta serie del Campobasso volendo così anche spegnere sul nascere qualche tentativo di Mariani e di suoi collaboratori di trasmigrare il titolo di quarta serie a Campobasso e far ripartire un progetto sano, cioè senza debiti. La riflessione è la seguente. Fa piacere assolutamente che il Campobasso continui la sua avventura in Serie D, ma a chi toccherà pagare i debiti, chiediamo a Perrucci. L'iscrizione dunque ci sarà e l'auspicio è anche che chi ha concorso a creare questa situazione di deficit finanziario così importante possa mettersi da parte come succede in ogni società sportiva italiana a qualsiasi latitudine. Facciamo un cenno doveroso anche ai famigerati lavori di restyling di Selva Piana che certamente non abbiamo dimenticato. Proprio stamane ci siamo messi in contatto con fonti dell'assessorato e lavori pubblici e abbiamo appreso che l'aggiudicazione dei lavori stessi per un importo di 800 mila euro all'ordo dell'IVA avverrà tra due settimane. E questa è una situazione che ci sta particolarmente a cuore proprio per le condizioni disastrate in cui versa in molti punti la struttura di Selva Piana. Anche ad Agnone vige lo stesso clima di attesa, simile a quello che c'è nel capoluogo di regione, dal giorno della riconsegna del titolo sportivo nelle mani del primo cittadino Marco Vecchio a seguito delle dimissioni in blocco dei dirigenti, il sindaco stesso si è messo in moto per provare a cercare soluzioni alla crisi del calcio cittadino. La situazione è apparentemente in stand-by, ma in molti in Alto Molise confidano di apprendere delle novità sabato prossimo. L'occasione sarà la festa del cinquantenario della società Granata. Ad Agnone sono attese due presenze di spicco, cioè quella del presidente federale Tavecchio e del vertice del comitato dilettanti Cosimo Sibilia. Parteciperà una grande parte di tifosi ed appassionati ai colori Granata. I riflettori saranno puntati proprio sul sindaco Marco Vecchio, dal quale sono attese notizie frutto degli uffici di queste ultime settimane, cioè dalla fine del campionato in avanti.